ma almeno c'è l'attrazione ma è partita l'azione va agli incontro e pizzicala dai la gioca in mezzo libero bravo vai muori si figia si figia bravo grande bravissimo come viene figio ancora ancora non c'è nessuno non c'è nessuno ma non ci credono non ci credono cazzo no no dai fede ecco sal zitto bacio che st'ammonisce non dice le parole forza la sua vai vai giù vai giù vai ma prima di andare era fuori ghiotto no non era fuori ghiotto ha già tirato bravo ma c'è va bene ma c'è vai sotto è giusto è giusto l'hai presa te dai 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 no ma l'ha presa lui l'ha presa l'ha presa lui non ha toccato la palla non ha toccato la palla dai fede dai nell'angolo dall'altra parte eh c'era il vento ma niente Marco va bene dai esci no dai Gianni dietro dietro vai 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 non seguo nessuno non seguiva si è fermato vai vai giù corri bravo uno in mezzo uno in mezzo vai Già che da solo ma per te perdere ste palle vai di là vai di là bravo bravo occhio vai ragazzi ma cazzo solo cambia di qua cambia dai dai non fermarti no ok no è lisa dai 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 allora dai 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 dìglielo uno in dietro uno in dietro uno dietro che tanto è sempre lunga vedi? uno dietro ci vuole sempre in quattro sono in quattro sono fuori io credo dai dai va a posto in quattro sono vai ragazzi sveglia dai macchi subito guarda ragazzi non so che l'ha iniziata è finita a 4 e mezza 4 e 40 sono 4 e 51 non c'è nessuno non c'è nessuno come al solito non c'è nessuno dai fede bravo Marco bravo chiedi troppo io pensavo che tirava così così? così? fede corri su dai oso svegli allora vogliamo correre? dai ragazzi sulla fascia sulla fascia sulla fascia perché sulla fascia buvo di qua via dai dai ora sì di qua di qua non c'è nessuno dai ma c'è dai marco ciao 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 Ciao, buona! Com'è? Tutto al posto? Eh... Sì... ... 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 è uno e mezzo di dietro però e non c'è mai nessuno non c'è mai nessuno dietro 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 è una carcarina dai Gabbo dai dai la prima dai la prima sta palla non ragionano dai ragazzi non c'è mai nessuno dietro ma 15 a 5 15 minuti ancora 15? è iniziato a 40 vale più lunga più bassa e più lunga 15 minuti dai 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 andiamo di là giusto quanto manca la mia insieme mancano 15 mancano 15 si ce n'è ancora più dai andre dai attaccate su un po' chiamala regaliamo le foglie va bene andre va bene andre dai aso dai non c'è dai dai ragazzi dai ragazzi dai che ce la potete fare dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi bravo 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 sembra di fallo sembra di fallo bravo 4 dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi dai 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 che andiamo a fare dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi sì l'ha spandirato ma l'altro tu guardi dai simon dai simon bravo simon dai raga manca dieci minuti muoviamoci non c'è nessuno come al solito dai ragazzi dai è bella va bene va bene non fermarti non fermarti dai ragazzi dai dai cos'è? non c'è nessuno come al solito non c'è nessuno come al solito tornate veloce 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 vai Simone corri sulla fascia corri sulla fascia che non c'è nessuno di qua è uno libero Simone Simone girati non c'è nessuno come al solito vedremo che ci sarà controlli controlliamo il bar ma veramente forse è troppo esaltato hai fatto fallo? eh prima era fallo dopo l'ha fatto loro ma prima era fallo c'è nessuno come al solito con la fascia guardate Cori sul portiere! Un po' più, reattivi! Vediamo la pappa reale come da bambini! Cos'è che? Fanno loro! Fanno la nostra! Dai segniamo sto gol! Vieni dietro! Capri! Due, non andare giù! Scaccate gli uomini! Sulone, vai sul dischetto del centrocampo! Sulone! Fermo lì figio! Sulone, sul dischetto del centrocampo! Non ti spostare da là! Stai sempre là! Pizzicala, pizzicala! Vai, vai! Stai sempre là! Vai Giamma, dai Giamma! Recupera! Dai dai, recuperiamo! Stringiamo le vascature lì! Damiro, quanto macchi? Quanto fa? Sette... 23... Sette minuti! Siamo scemo su domo! Oh dai! Vieni via! Tira fuori chi fa il gioco e tira fuori! Vieni via! Vieni via! Vieni via! Vieni via! Vieni via! Vieni via! Tira, va bene! Tira, va bene! Tira, va bene! Nsca, va bene! Va bene! Fa bene! arbitro indietro due metri la palla la palla nuova palla nuova via via vai 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 che tira che cagli per sempre a rigore ma basta questa palla dai metti la marco dai ragazzi si si c'era c'era un po' in ritardo ora lascio tirare adesso la polizia no lo toccare sii sii Così! Grazie a tutti! Ciao, ciao! Dai, nessuno che segue! Dai, fuggi! Fallo, fallo! Fallo, fallo, giusto! Ma c'è sempre... Fallo c'era, giusto? Sì, beh! Non l'ho fatta apposta! In quattro sono, in quattro! Bene, grazie! Dai, dai, dai tutti! Ancora cinque punti! André! André!